buongiorno cari amici miei pomodoro per la pizzeria massini devo dimostrare i miei prodotti guardate uno alla volta fior di latte 100 per cento italiano guardate qua con boccocini ok la qualità che uso io guardate qui porciutto cotto alta qualità vi faccio leggere porciutto cotto della alta qualità questa è la sua tacchetta e contrario ok è perfetto adesso vi faccio lasciare leggere tutta la tacchetta ok qua abbiamo la pancetta guardate guardate la qualità dopo guardate e spec ok questo viene dalla montagna salamino piccante fior di no questo qua è la bufala 100 per cento guardate qua ok qua abbiamo una buonissima salsiccia bella freschia qua ci sono ancora boccocini per le pizzerie per le pizze speciali ok cari amici chi ha dei dubbi di questi prodotti al dritto di venire domandarmi e chiederti la ricevuta ok vi lascio e vi vi auguro una buona giornata vi aspetto a namerosi venite gustare il nostro prodotto